L'ufficio territoriale di Agropoli dell'Agenzia delle Entrate in via estate si trasforma in sportello. Dal 9 dicembre tutte le postazioni saranno destinate all'erogazione di servizi ai cittadini, tra cui ad esempio l'assistenza su comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento, la registrazione di atti privati, la ricezione di dichiarazioni di successione, il rilascio del codice fiscale e della tessera sanitaria, l'assistenza per la compilazione del modello unico persone fisiche o ancora informazioni sugli adempimenti tributari e sui rimborsi. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 15.00, dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 15.15. La trasformazione è stata possibile grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che ha messo a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i locali in comodato gratuito.